buona giornata amici da massimo foghetti ben trovati per quanto riguarda la rassegna stampa di fanu tv questa mattina è venerdì 11 febbraio 2022 il sole sorge alle 7 12 e tramonta alle 17 e 33 cominciamo subito la giornata a che vedere con il santo del giorno oggi non si festeggia un santo ma un avvenimento un evento un evento di particolare importanza come l'apparizione della beata vergine di lourdes nella piccola città dove viveva bernadette subiru che vide la madonna nella grotta di massabielle un evento che fece epoca nel 1800 e ancora oggi procura tanti tanti pellegrinaggi nella cittadina francese che dire dei lourdes dell'apparizione di lourdes ormai l'evento è noto il volto della madonna il rosario la folla che tutti i giorni e anche le notti affolla la grotta di massabielle e la famosa dichiarazione io sono l'immacolata concezione era un dogma che il papa aveva proclamato poco tempo prima e che ovviamente la gente del popolo non conosceva in tutta la sua profondità e poi l'acqua l'acqua che si dice miracolosa e tanti infermi sono guariti appunto bevendo quest'acqua un mistero che appunto solo la fede può spiegare e veniamo ora alle previsioni del tempo vediamo che il tempo si mantiene sostanzialmente stabile nel nostro territorio bello al mattino più nubi nel pomeriggio sera con rade piovigini sul monte feltro e sull'interno dell'ascolano temperature massime miti le temperature oscillano tra i 6 e 12 gradi ma con qualche punta in più verso mezzogiorno ed ora vediamo subito le notizie del giorno a partire oggi dal resto delle carlino apriamo la pagina di fano e vediamo piuttosto un problema ovvero un problema di carattere sanitario la guardia medica non deve chiudere lo ha detto il vice presidente della regione Marche Mirko Carloni il vice presidente si è pronunciato come si era pronunciato anche l'assessore alla sanità nella giornata di ieri Filippo Saltamartini è necessario ha detto Carloni rimuovere l'incompatibilità tra il dottore di famiglia e la continuità assistenziale attualmente dato che esiste una norma precisa i medici di base non possono fare il servizio di guardia medica e questa è una cosa da rimuovere tant'è che la ha detto Carloni sta preparando un emendamento da presentare in parlamento per superare il problema dal punto di vista normativo ma la ragione principale è quella della carenza dei medici insomma di medici ce ne sono sempre meno poi vedremo anche i numeri nei prossimi articoli appunto dei giornali questa mattina e sul problema è intervenuto anche il sindaco di Fano Massimo Seri che ha dichiarato all'assessore Saltamartini città e territorio meritano rispetto soprattutto dal punto di vista sanitario una località che d'estate ospita migliaia di turisti non può rimanere sguarnita di questo importante servizio come quello della guardia medica insomma d'estate nella costa la popolazione quasi raddoppia e non possono venir meno i servizi essenziali come quello appunto della sanità altra notizia importante pubblicata oggi dai giornali è l'esito della riunione della commissione di garanzia e controllo che si è svolta ieri pomeriggio con di fronte il consiglio d'amministrazione di Aset Spa si parlava ovviamente della fusione di Aset marche multiservizi ma protagonista è stato il dossier che è venuto alla luce nei giorni scorsi un dossier che è stato pubblicato dal Corriere Adriatico tant'è che è servita a dare un giro di vite un impulso ai lavori della commissione la testimonianza del giornalista Lorenzo Furlani che ha fatto vedere come il documento esistesse veramente ne ha illustrato pagina per pagina tutti gli aspetti erano delle slide con i dati riportati in percentuale che hanno dimostrato come era soprattutto aveva intenzione di proporre un progetto per la fusione con Aset Spa e marche multiservizi ovviamente non si ha notizia di come quei dati siano stati desunti in quanto il dossier è solo un sunto di uno studio più analitico che però ancora non è venuto alla luce altro argomento differenziata per positivo in quarantena i rifiuti si smaltiranno a monte schiantello questo è un articolo interessante per coloro che sono positivi al virus cambiano le modalità di raccolta dei rifiuti per i positivi o coloro che sono in quarantena da mercoledì sono raccolti come l'indifferenziato e smaltiti non più nel termo valorizzatore di Corriano ma nella discarica di monte schiantello la richiesta di semplificazione delle procedure avanzata da tutte le società marchigiane che gestiscono il servizio Aset compresa è stata finalmente accolta dalla regione marche la regione in sostanza ha semplificato le procedure il cittadino metterà i rifiuti nell'indifferenziato utilizzando almeno due sacchi da inserire uno dentro l'altro e chiudendoli molto bene i rifiuti dovranno essere conferiti così come si è sempre fatto per il secco in caso di raccolta stradale attraverso il cassonetto più vicino quindi operazioni semplificate crisi della Saipem lex snam progetti allarme per la sede fanese sappiamo come a livello nazionale la Saipem ex snam progetti sia in difficoltà a Fano occupa 700 dipendenti e se questa crisi raggiungesse punte estreme ovviamente conseguirebbe un danno per tutta l'economia territoriale anche perché la Saim alimenta un vasto indotto che lavora attorno a questo centro di progettazione che lavora in tutto il mondo insomma riflettori puntati sulla importante sede cittadina che fin dai tempi di snam era seconda in Italia subito dopo quella di Milano e aveva svolto veramente un'operazione di sostegno di rivitalizzazione del comparto produttivo importantissimo appunto per la sede territoriale e poi parliamo di un argomento piacevole ovvero della festa degli innamorati il 14 febbraio domenica alla vigilia della festa degli innamorati le coppie che lo vorranno potranno essere protagoniste di un percorso tematico interattivo dal titolo Fano nido di grazie et d'amore aspettando San Valentino al museo ebbene nella splendida cornice del palazzo malatestiano domenica alle 16 e 30 si celebra infatti la festa degli innamorati calandosi nelle romantiche atmosfere dell'amor cortese dell'amore delle corti quella dei menestrelli quella della gentilezza della bellezza che raccontavano i nostri poeti del 1200 all'arma erosione dopo il pasticcio il comune trova le risorse qual è stato il pasticcio quello di non aver messo la pec nel modo giusto insomma nel domanda per ottenere per concorrere a un progetto di 500 mila euro e quindi terminare questa lunga fila di scogliere che ancora procura dei grossi danni al litorale fanese soprattutto quella che difende le spiagge di Carlo e di Gabriele in Sassonia hanno confermato l'impegno preso e ha detto Matteo Rezzi che è il gestore dei bagni Carlo l'amministrazione comunale ha confermato tuttavia l'impegno preso e dentro marzo si finiranno le due scogliere che dovrebbero proteggere appunto le concessioni quella che interessa la difesa delle ultime due bagni Carlo e bagni Gabriele e della passeggiata del Lisippo insomma un intervento che l'amministrazione comunale cerca di fare ugualmente nonostante appunto l'errore che è stato compiuto nei giorni scorsi. Mondolfo adeguamento sismico alla media Fermi, alla scuola media Fermi, ampliamento del cimitero e restauro dello storico bastione di Sant'Anna. Saranno ultimate tre importantissime opere pubbliche lo ha annunciato a comunicarlo è stato il sindaco Nicola Barbieri che è stato confermato alla guida del comune alle ultime amministrative. A San Costanzo il comitato ambiente vivo sollecita la provincia combatte l'ampliamento della discarica di Montesquiantello inviate mail all'ente e un intervento questo che è stato posto in evidenza anche nella giornata di ieri dai quotidiani. Per quanto riguarda Urbino vediamo che si parla di un allentamento della guardia all'università zona arancione semaforo verde tutti in aula dal 22 febbraio quindi tra pochi giorni nonostante il cambiamento di colore della regione che è passata appunto dal giallo all'arancione le lezioni della università di Urbino riprenderanno dal vivo e quindi in presenza. Ci vorrà il super green pass che sarà d'obbligo per docenti e studenti. Green pass e mascherine insomma un segnale per quanto riguarda un auspicato ritorno alla normalità. Nuovo autovelox sulla strada della morte a Cagli. È stato installato ieri tra l'abitato di Smirra e l'inizio delle quattro corsie in direzione a Qualagna il tratto dove si sono verificati gravi incidenti. Quindi attenzione non correte troppo perché l'autovelox spara multe considerevoli. Controllerà il limite dei 70 chilometri in un raggio di 2 chilometri quindi attenzione a non calzare sull'acceleratore. A Sant'Angelo in Vado parchi e campetto di calcio arrivano i soldi della regione. Sono 40 mila euro per Apecchio per lo storico spazio in cui sono cresciute generazioni ovvero il campetto di calcio e 10 mila euro per Sant'Angelo in Vado ad annunciare il provvedimento della regione il consigliere regionale dei civici Marche e Giacomo Rossi. E a questo punto possiamo vedere la pagina di Pesaro dove vediamo che il giudice ha dato ragione a Carriera, al ristoratore Carriera ed ha annullato una multa che era stata combinata per, erano 800 euro, per una cena che era stata organizzata in un orario che la normativa proibiva appunto di organizzare. E' stato accolto il ricorso contro la stanzione di 800 euro e la chiusura del locale imposta dopo la serata organizzata con Sgarbi a Monbaroccio. Era il 15 gennaio del 2021, oltre un anno fa il magistrato nel dispositivo disapplica uno dei decreti dell'ex presidente Conte. C'è una dichiarazione di Umberto Carriera. Finalmente ha detto brilla una luce di giustizia in tutta questa vicenda che ha visto la nostra categoria messa in ginocchio con delle decisioni che sono state appunto definite schizofrenice. Non sono ancora state depositate le ragioni del provvedimento, ancora non si sa perché il giudice ha assolto Carriera, sono attese entro 30 giorni e ovviamente i giornali ne riparleranno. In questo articolo si parla del San Benedetto di Pesaro. E' l'assessore regionale Stefano Aguzzi che dice che la regione ha agito nel modo corretto. Il comune doveva predisporre una variante urbanistica, doveva presentare un progetto di riqualificazione della parte d'immobile che si affaccia sul corso della città e poi concorrere al programma ministeriale Pinqua. Il bando è andato a buon fine, il comune ha avuto 15 milioni di euro e ora deve ristrutturare la parte di cui è proprietario. E poi il comune deve dare all'Asor in permuta una parte ristrutturata per 750 metri quadrati e 1 milione 100 mila euro più IVA. Il comune deve quindi procedere con la ristrutturazione della parte che ha acquistato e sulla quale ha fatto il progetto Pinqua. La regione, dice Aguzzi, non appena riceverà queste risorse del comune di Pesaro, procederà ad un progetto complessivo sull'area di ristrutturazione. Questa è la modalità concordata e questo è quanto verrà fatto, ha sottolineato Aguzzi. Altro stop and go al vecchio Palace, Pozzi, cambia la ditta e poi riparte. Il neoassessore chiude i conti con i primi 5 milioni di euro e qui vediamo nella foto una immagine del vecchio Palace in corso di ristrutturazione ma è così ormai da tanto tempo. Ora gli appalti saranno divisi, 2 milioni di fondi aggiuntivi già sono stati distanziati e alla GM ditta di Fano sarà assegnato il cantiere della scuola Dante Alighieri di Soria. Insomma un'attività fervente per quanto riguarda i lavori pubblici a Pesaro. E Pesaro ieri ha oscurato sue due parti importanti. Il comune ha aderito alla campagna promossa dall'Anci per quanto riguarda il richiamo all'attenzione al caro Bollette. L'hanno fatto diversi comuni d'Italia, l'ha fatto ieri sera anche Fano. Il comune di Pesaro ha spento le luci sulla residenza del comune, sul Palazzo Civico e in Piazza del Popolo. Piazza del Popolo e Palazzo Comunale. Il sindaco Ricci ha detto da settimane lanciamo l'allarme sull'inflazione, urgono interventi per quanto riguarda appunto la possibilità delle famiglie e delle aziende di tirare avanti. E veniamo alla pagina della giustizia. Antiquario assolto, nessun maltrattamento. Era accusato dall'ex moglie che aveva chiesto anche 20 mila euro di risarcimento danni. Non è stato raggiunto però la prova della colpa. L'uomo era accusato di avere picchiato la compagna, di averla umiliata, offesa per dieci anni e di avere deciso di mettere fine a quell'inferno che lo aveva sorpreso a sniffare cocaina. Insomma, la donna lo aveva accusato in questi termini, però il giudice non ha creduto opportuno procedere oltre perché la prova di quanto asserito dalla donna non è stata raggiunta. Veniamo ora alla pagina del Corriere Adriatico. Abbiamo concluso il Carlino. Vediamo subito cosa dice il Corriere per quanto riguarda Fano. Il Corriere apre con la seduta della Commissione Garanzia e Controllo che si è svolta nel pomeriggio di ieri. Il dossier era mostrato a tutti. Questo dossier esiste ed era uno studio compiuto proprio da ERA per quanto riguarda la fusione. Quindi l'intenzione era chiara appunto di inglobare l'azienda controllata dal Comune di Fano svolta nella Commissione di Controllo. Il CDA di Aset acquisisce il documento rivelato. Ed è stato proprio il giornalista Lorenzo Furlani a fare delle copie di questo documento che verranno poi distribuite sia agli amministratori che alle forze politiche di opposizione e ovviamente a tutti coloro che lo richiederanno, compreso il CDA di Aset SPA. E si verificherà se ci saranno dei dati che non dovevano essere divulgati, ovvero dati che non sono stati resi pubblici e che invece sono serviti per redigere questo documento importante per vedere le intenzioni appunto per quello che si muoveva nel sottobosco per le aziende dei servizi del nostro territorio. 13 slide, sintesi di uno studio più ampio, uniche cifre, le percentuali di partecipazione in marche e multiservizi e i milioni ai soci di Aset. Un'altra apertura è dedicata ad un protocollo d'intesa firmato tra il Comune di Fano e la Regione Marche per la realizzazione di due ciclovie importanti, la ciclovia adriatica e la ciclovia del Metauro. Ci sono fondi a disposizione, vediamo che per quanto riguarda la ciclovia adriatica di cui è stato già completato un piccolo tratto a Ponte Sasso, verrà realizzato un ponte sul Metauro, un ponte sul Metauro di cui l'80% delle spese verranno coperte dalla Regione Marche e il 20% dal Comune di Fano. E poi si parla di un altro ponte, di un altro ponte che sormonterà via Papiria per quanto riguarda la realizzazione della ciclovia del Metauro, un'arteria che per quanto riguarda il Comune di Fano partirà dall'incrocio con la ciclovia adriatica fino al Comune di Monbaroccio, ovvero fino a Lucrezia. Sindacati, grave la scelta di Tinti di escluderci dal confronto sul piano sociale d'ambito, solo a Fano per noi un unico tavolo, hanno dichiarato i sindacati protestando ed è la CGL, CISL e Urbino che ha replicato appunto alle dichiarazioni dell'assessore. E anche il Corriere Adriatico parla della Guardia Medica, il servizio a rischio e la sindaco Seri secco con Salta Martini, non è serio prevedere il ricorso notturno al 118, ha dichiarato il primo cittadino e protesta anche Mondolfo perché anche a Mondolfo è stato privato il servizio. Da marzo sguarnita tutta la fascia costiera, è la consigliere regionale Marta Ruggeri che interroga la Regione sulla mancanza di dottori e c'è anche un'interpellanza del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Fano. Insomma i 5 Stelle vogliono vederci chiaro intorno a questa carenza di dottori e alla programmazione relativa che ha fatto la Regione. A Urbania si parla di risorse idriche, si parla di una rete di laghi, una rete di piccoli invasi comunicanti tra di loro che dovrebbero essere, dovrebbero costituire una riserva in caso di crisi idriche, in caso di siccità. Ed è l'Ingegnere Baldetti che sottolinea di disporre della documentazione scientifica. Piccolissimi bacini non dannosi messi in rete e costruiti in simbiosi con la natura possono veramente funzionare e servire da riserva in caso di necessità. A Fano si rifà la copertura degli scavi a Porta Maggiore, il casottino con i graffiti deturpa da tre anni quello spazio ristrutturato e si spera che venga rimosso il più presto possibile. Per quanto riguarda la Val Cesano c'è un aggiornamento del processo sui fatti di Corinaldo che si sta svolgendo in Ancona. La strage nella discoteca Trappola morti perché bisognava fare soldi. Ebbene è un titolo veramente che fa riflettere per la cattiveria degli uomini. Lanterna azzurra processo ai colletti bianchi. Il papà di Emma, una delle vittime appunto della strage di Corinaldo, ogni giorno devono pensare alla tragedia, a coloro appunto che sono stati gli artefici. Una situazione di assoluta inidoneità del locale sotto tutti i punti di vista, dall'aspetto della sicurezza fino all'organizzazione per lo specifico evento dell'8 dicembre del 2018. C'è stata una responsabilità dei proprietari e dei gestori. Quei ragazzi sono morti perché qualcuno doveva fare i soldi. Ebbene appunto sono delle parole che sono emerse dal processo che si sta celebrando in Ancona. Ed ora stiamo vicini alla conclusione. Vediamo lo sport. Vediamo lo sport soprattutto per quanto riguarda la VIS. La squadra pesarese studia il prossimo derby con il fermo. Il derby delle palle inattive viene dichiarato perché saranno importanti i calci piazzati che possono decidere queste sfide. Gucci e Marcandella ancora ai box. Ci c'è una notizia che riguarda i tifosi. Aperta la prevendita per i biglietti del settore ospiti dello stadio Bruno Recchioni di fermo. Coloro che vogliono andare a vedere questa partita possono acquistare i biglietti. Il costo per i tifosi pesaresi è di 12 euro. Sono acquistabili sul circuito Viva Ticket e nei punti vendita abilitati nella città. Per quanto riguarda Fano invece abbiamo una sorpresa. La sorpresa è che Antezza lascia il Granata per Trapani. Il mercato Granata si è chiuso ieri con l'addio del centrocampista che aveva giocato con tutti e tre gli allenatori che si sono susseguiti in questo campionato alla guida della squadra. Per l'Alma si tratta di una perdita non da poco a centrocampo visto che Antezza ha sempre giocato da titolare in tutte le partite degli ultimi tempi. Alla VL per il basket serve un rinforzo per la svolta. I tifosi chiedono alla società di dare una sterzata alla stagione tornando sul mercato. L'unico modo per uscire dall'anonimato ha dichiarato. E il più entusiasta di tutti domenica scorsa era addirittura Marco Manzini, atleta parolimpico di Taekwondo e grande tifoso della VL. Invitato dal club e premiato al centro del campo per il suo argento ai campionati italiani di Taekwondo. Ringrazio la società per avermi invitato a prendere l'applauso dei tifosi pesaresi ha dichiarato. Per me è sempre una grande emozione ed è bello quando gli sport si conciliano, quando diverse branche dello sport si mettono insieme per condividere gli stessi valori, le stesse aspirazioni. Ebbene per Roberto Tomassoli per quanto riguarda la VL una squadra che viene smontata ogni estate non aiuta a creare entusiasmo e a fare affezionare i tifosi a questi colori ma ovviamente si cerca di fare il possibile perché poi occorrono tante risorse finanziarie per riuscire ad avere giocatori di calibro internazionale che possono dare una svolta al campionato. A questo punto noi chiudiamo la nostra rassegna stampa, abbiamo fatto una rassegna delle notizie più importanti che appaiono sui quotidiani questa mattina. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti noi ci risentiamo alle 7 di domani mattina e per questo vi auguro buona giornata a risentirci.